Ciao amici di CAM, oggi siamo qui a visitare un negozio che si trova a Magente in via Manzoni e fa parte del Crab Grouper Crave che vende prodotti, borse, cinture, anche portafogli di pelletteria in vera pelle che è stata realizzata artigianalmente. Questo gruppo fa parte di una grande catena di negozi che si stanno sviluppando in tutta l'Italia del Nord e oggi vi faremo vedere un po' dei loro prodotti. Adesso sceglierò alcuni dei prodotti che mi piacciono di più a cui abbinare al mio look e ho deciso di mostrarvi questa borsa come primo inizio. Questa borsa è una borsa molto grande, come abbiamo detto è in vera pelle realizzata artigianalmente e ora proveremo ad aprirla. Come potete vedere la borsa ha due scomparti, è abbinata anche a una cintura che permette di tenere la borsa in un'altra maniera, quindi si può tenere sia con la spalla in questo modo oppure tenendola dai manici in questo modo qua. Come abbiamo detto abbiamo una cerniera e all'interno della borsa abbiamo uno spazio molto grande che ci permette di tenere all'interno un sacco di cose. ecco a voi ci sono anche due taschini un'altra cerniera e poi qua davanti abbiamo anche un'altra tasca una finta tasca che si apre con un'altra cerniera ed ecco qua la prima borsa oltre alle borse in questo negozio possiamo trovare anche una grande varietà di accessori abbiamo qua una serie di portafogli questo per portafoglio nero ad esempio è molto spazioso all'interno possiamo inserire le nostre carte di credito qua la nostra moneta e qua il nostro contante come potete vedere il portafoglio non è solo di colore nero ma abbiamo anche un'altra serie di colori come rosso beige e arancione vi ho mostrato i portafogli da donna ma abbiamo anche i portafogli per gli uomini e ora ve li mostrerò questi sono i portafogli più piccoli che contengono portacarte, monete e uno spazio per i contanti poi abbiamo anche dei portafogli più grossi e quindi diciamo che ce ne sono per tutti i tipi e abbiamo una grandissima varietà di colore anche qua abbiamo degli oggetti diciamo un po' più moderni che sono utilizzati molto dagli uomini in questo periodo che possono contenere le carte di credito oppure anche i documenti che ora sappiamo che sono praticamente tutti elettronici e in questo modo questo oggetto ci permette di tenere nelle nostre tasche anche con uno spazio davvero illimitato tutto quello che vogliamo abbiamo inoltre anche altri borselli un po' più originali di una forma diversa rispetto alla solita forma rettangolare questi borselli ci permettono di contenere all'interno le monete tornando alle borse da donna come vi ho detto in questo negozio ci sono una grandissima varietà di borse di forme, di colori e ve ne farò vedere un po' queste sono le borse più grosse che sono diciamo le borse da passeggio per portare con noi tutti i giorni e come potete vedere abbiamo tantissimi colori e tantissime forme per esempio abbiamo anche queste forme qua che sono molto particolari e la borse in questo caso la teniamo in questo modo con la spalla poi abbiamo anche delle borse un po' più particolari che possiamo abbinare in maniera differente per esempio in questo caso abbiamo sia la borsa da passeggio che la borsa da serata che il portafoglio e ancora il portafoglio più piccolo e poi qui abbiamo un'altra tipologia di borse un po' più particolare che possiamo utilizzare anche per andare a scuola per fare un picnic e la teniamo in questo modo come vi ho detto tutte queste borse sono in vera pelle qui da trabe abbiamo anche delle borse un po' più originali rispetto alle solite borse da passeggio bianche e nere abbiamo anche una serie di colori che sono molto più vivaci per esempio questa borsa qua di colore rosso e verde realizzata ovviamente come abbiamo detto con vera pelle artigianalmente ha un'apertura con la cerniera e all'interno di questa apertura troviamo un grandissimo spazio e un altro gancio che possiamo utilizzare per portare la borsa non solo con la mano ma agganciandola con l'altro gancio possiamo tenerla anche di spalle come vi ho fatto vedere per le altre borse qui da trabe non solo troviamo borse, portafogli e portacarte ma anche una serie di cinture che sappiamo che sono realizzate in intera pelle come per le borse e ora ve ne farò vedere un paio allora per quanto riguarda gli uomini perché trabe non vende solo oggetti per le donne ma anche accessori per gli uomini abbiamo per esempio questa cintura in vera pelle che ha una doppia faccia può essere utilizzata sia con il colore nero ma può essere utilizzata in maniera molto semplice e pratica anche con il colore marrone e basta tirare e girare in questa maniera qua e in questo modo noi potremmo utilizzare la cintura per colori di abbinamenti differenti perché abbiamo sia il nero che non solo cinture per gli uomini ma anche cinture per le donne che ovviamente sono più sottili però anche qua possiamo scegliere tra una grande varietà di colore questa per esempio è di colore grigio però abbiamo anche dei colori più particolari come ad esempio il verde il giallo e infine il rosso girando per il negozio troviamo anche delle borse più colorate e più vivaci per la stagione primaverile ad esempio questa borsa violetta molto carina che è utilizzabile anche alla sera perché è molto piccola oppure abbiamo anche delle borse più grandi come ad esempio questa borsa fucsia che è una borsa molto grande quindi molto spaziosa che possiamo indossare sia in questa maniera sia tenerla per i manici ed è adatta per le giornate primaverine inoltre abbiamo anche borse di colore giallo nonché altre borse con colori particolari quindi in questo negozio non troviamo solo borse monocolore nere o marroni ma c'è una grandissima varietà inoltre abbiamo anche delle borse molto particolari che possiamo usare in maniera differente ad esempio prendiamo in considerazione questa borsa grigia questa borsa possiamo utilizzarla sia tenendola per i manici quindi in questo modo oppure la possiamo utilizzare come se fosse uno zainetto quindi portandola in spalla in questa maniera quindi è adatta anche a motociclisti ciclisti o a quello che viaggiano in giro per il mondo e si portano con sé un piccolo zaino ora vi mostro questa borsa molto particolare che è stata realizzata a mano da una serie di artigiani questa borsa oltre ad avere un inserto molto speciale al suo interno contiene un'altra pochette che possiamo utilizzare come se fosse un beauty case che riprende l'inserto della borsa esterna ed è molto particolare la borsa non si dimentica degli uomini e infatti vi mostrerò una serie di accessori di borse per gli uomini che vanno a lavoro e quindi portano con sé il computer oppure una serie di fogli, documenti ad esempio abbiamo questa borsa qui che è molto grande molto comoda e molto spaziosa si apre in questa maniera e poi ha una cintura e all'interno come potete vedere ha un grandissimo spazio e anche qua abbiamo un gancio in modo tale da poter portare la borsa anche non solo con le mani ma anche con la spalla ci sono diversi tipi di borse per laboratori pendolari oltre a questa borsa qua abbiamo anche questa borsa che si apre in una maniera differente in questo modo e anche delle tasche vediamo che i prodotti sono tutti realizzati seguendo lo stile la moda italiana ma invece gli accessori che vengono utilizzati con la pelle di queste borse sono made in Italy ora vi mostro una serie di oggetti un po' più particolari per le persone più originali e stravaganti tra gli oggetti abbiamo questa pochette che è stata realizzata in pelle di pesce però abbiamo anche altri oggetti più piccoli come per esempio i portafogli questo ad esempio è stato realizzato in pelle di serpente oppure oggetti ancora più speciali come questo è stato realizzato in pelle di coccodrillo in negozio possiamo trovare alcuni di queste pelli che rappresentano l'esempio della pelle che utilizza Crave Crave utilizza pelle di materia prima del Bangladesh ma sono realizzate con prodotti chimici completamente italiani e soprattutto ricordiamo che Crave vende prodotti in pelle che sono certificati non solo dalla certificazione ISO ma da molte altre certificazioni e da qui possiamo notare che la pelle è molto morbida e la certificazione ci fa capire quanto Crave venda prodotti assolutamente non dannosi per l'essere umano è stata oggi per la prima volta in Crave e mi sono resa conto che tutti questi accessori hanno una qualità estrema e sono rimasta molto sorpresa da questo sono realizzati in vera pelle e in maniera artigianale non industriale inoltre sono certificati e quindi sappiamo che non sono accessori dannosi all'essere umano perché realizzati con elementi completamente naturali quindi vi aspettiamo qui nel negozio Crave in via Manzoni numero 6 a Magenta in provincia di Milano oppure potete trovarci anche su internet sul sito www.cravegroup.com grazie grazie a tutti